Cosa diciamo al capitano? Ma adesso c'ha un pegno da fare, perché davanti a tutti, pesa 83 kg, me deve portare in giro perché è una scommessa che deve pagare. Ponta su, va! Come sono? E' più difficile vencere il campionato? Si rompe prima d'andar via. E' probabilmente. Vai Fabio! Ho avuto la fortuna, ma guardate se è grande. Anche stai sbagliando questa volta. Grazie. Oh, guardatevi. Grazie. 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 Grazie.